Occhio giornali, buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa, il commento alla stampa del giorno che come sempre apre l'informazione, la giornata informativa in diretta di Fano TV sul canale 17 del Digitale Terrestre, siamo visibili in tutta la regione Marche ma anche sui device, sui telefonini, attraverso Facebook che vi segnala con la notifica che sono le 7 e che c'è la rassegna stampa, rassegna che comincia con il dirvi che oggi la Chiesa Cattolica ricorda San Pio V, Papa, il sole è sorto alle 6.02 e tramonterà questa sera alle 20.15. Rassegna che però vi dà anche uno spaccato del tempo di oggi, in mattinata avremo come vedete dalla grafica di trebimeteo.com una giornata soleggiata con qualche velatura, il pomeriggio più o meno passerà allo stesso modo, l'aumento della nuvolosità che porterà sulla regione delle piogge nel corso della serata, questa sera sul Pesarese e sull'Anconetano. Come sarà invece il primo di maggio? Domani giornata di festa, mattinata ancora con un po' più sole sul Pesarese e sul resto della regione invece un po' di velature, con le prime piogge sull'Appennino centro-settentrionale Marchigiano, la sera le piogge si diffonderanno anche sulla costa, in particolare l'Anconetano ma per il resto insomma avremo una giornata tutto sommato abbastanza tranquilla. Allora proteste, Covid, incidenti, di questo parleremo nella rassegna di questa mattina. Il Carlino di Pesaro pubblica la fotonotizia di una protesta, la protesta dei tassisti in Piazza del Popolo, la rabbia dei manifestanti in piazza, così dicono non si va avanti. Weekend giallo, gli hotel vedono però nero, il primo di maggio non scalda le prenotazioni in provincia, gli albergatori dicono è terminato e temiamo invece per l'estate. Palazzo Ducale, accordo con Google per i capolavori e poi in via Flaminia, Pesaro, il ritrovamento, riemergono tombe romane. Vaccini, il giorno dei caregiver, vi piace di più così? Ieri quanta gente ha chiamato per dirmi che non si dice caregiver, si può dire come l'importante è che si capisca, caregiver. E spuntano anche i minorenni, sì sono persone che ovviamente assistono oppure sono in casa con persone fragili e quindi è giusto che vengano messi in sicurezza. Allarme contagia, Acqualagna tiene chiuse le scuole perché il virus lì non si ferma anche se Acqualagna è uscito dalla zona arancione, microzone rosse sale la protesta invece per le limitazioni. C'è un intervento di Oriano Giovanelli poi sul Carlino di oggi, sul nuovo ospedale, muraglia non va archiviata, sotto invece c'è in segnali alla VL, voglio restare a Pesaro per quanto riguarda il basket e poi un incidente, come abbiamo detto, schianto, quattro feriti in via Solferino a Pesaro. Invece il Carlino di Ancona, la fotonotizia che dà un po' di speranza, a fine Covid chiude un reparto, smantellato il Cov4 a Torrette di Ancona, dimesso l'ultimo paziente, tutti parlano adesso insomma di una speranza, speranza soprattutto in una lenta ripresa, ma che ci sia. Primo maggio, la spiaggia c'è, titolo del Corriere Adriatico, edizione pesarese, debutto stagionale per gli stabilimenti. I gestori, non tutto è ancora pronto, ma non vediamo l'ora di iniziare. Avantaggiati i chioschi con la ristorazione, la sorpresa sul lungomare ritorna alla sosta a pagamento. Ovviamente il lungomare è sempre quello pesarese, cresce la potresta, taxi, caccia il cliente perduto. E poi una storia bella che vi faremo vedere più tardi, sempre nel corso della rassegna stampa, il coach, un allenatore di pallavolo, famosissimo, Medei, dice per mia moglie rinuncio ai soldi dalla Turchia. E poi tombe emerse nei lavori, indaga la sovrintendenza, sul posto anche gli archeologi per gli accertamenti. Andiamo a vedere adesso le pagine interne. Cominciamo dalla cronaca. Travolge un diciottenne in moto e fugge, caccia il furgone di Calcinelli. Siamo in provincia di Piesa Urbino, lo sfogo del padre. Mio figlio è lasciato a terra, insanguinato in Via Laghi e ignorato anche dai passanti. Allora Gianluca Murgia questa mattina racconta questa brutta esperienza che ha vissuto un diciottenne, che è stato travolto, trascinato e lasciato sanguinante sull'asfalto nella zona industriale di Calcinelli, di Colli al Metauro. Un furgone, dice il padre sfogandosi sui social, un furgone ha pesantemente urtato mio figlio di 18 anni in moto e non si è fermato. E' andato via, impossibile che non se ne sia accorto. Un comportamento da criminale. E' lo sfogo del padre, residente con la famiglia molto conosciuta nella zona a Lucrezia, di Cartoceto. Fuga e omissione di soccorso. La denuncia è stata effettuata ai carabinieri di Saltara sabato scorso. Il fatto era accaduto però 24 ore prima, intorno alle 3 del pomeriggio. Spero che questa persona si riconosca, dice ancora il papà, e vada dai carabinieri prima che le immagini delle telecamere della zona lo incastrino, compromettendo ancora di più la sua posizione. Mi auguro abbia un rimorso e ragioni. Poi giustamente il Corriere ricorda che non prestare aiuto in caso di incidente è un reato, anche nel caso in cui il comportamento omissivo non generi conseguenze gravi. E' prevista la reclusione da tre mesi a tre anni con sanzione accessoria del ritiro della patente da uno a tre anni per chi non si ferma in caso di incidente e condanno alle persone. E c'è stato un incidente però, questa volta la causa è stato un malore in via Solferino a Pesaro. Quattro persone sono rimaste ferite, per nessuna, per fortuna di loro la situazione è grave, non c'è la prognosi, il titolo del Corriere Adriatico malore al volante, quattro all'ospedale, pauroso incidente blocca via Solferino, carambola di mezzi a metà mattinata, una Passat è sbandata sulla strada innescando schianti a catena. Per fortuna, come dicevo, nessuno dei feriti trasportati al pronto soccorso del San Salvatore sono in condizioni gravi e i medici hanno escluso dunque la prognosi. Ma sempre sul Corriere Adriatico di questa mattina la cronaca riferisce di un minorenne, un diciassettenne che a Rimini, all'interno di un supermercato di un Conad, è entrato, ha afferrato la cassiera, le ha puntato una pistola finta al volto e come fosse un criminale vero, le ha detto di dargli i soldi. I soldi o sparo, arresto sciocca a Rimini, questo è il titolo, il rapinatore è un pesarese di 17 anni, pistola puntata sulla cassiera per 800 euro. Clienti e dipendenti del Conad si sono ribellati però fermandolo. E sempre Gianluca Murgia ci racconta questa storia, erano da poco passate le 17 dell'altro ieri quando a Rimini all'interno del supermercato Conadi via Pintora, due passi dall'ospedale infermi, un ragazzino ha portato a termine una rapina da adulto spietato con il supermercato pieno di clienti. Dopo essersi fatto consegnare 800 euro dalla cassiera terrorizzata, ha tentato la fuga ma alcuni dipendenti l'hanno braccato e fermato all'esterno. Non ha fatto in tempo a consegnare però il mallop ad un complice appostato di fuori e capace di divincolarsi facendo perdere al momento le tracce. Il pesarese che si è scoperto poi avere anche già diversi precedenti di polizia è stato portato nel carcere minorile di Bologna. E adesso invece il Covid, le pagine dedicate al Covid con la notizia pagina 2 del Corriere di Oggi che la curva si è fermata ma la zona gialla resiste. Altri comuni nel Mirino, questa settimana l'indice RT è passato a 0, da 0,69 a 0,81 quindi è aumentato. Infatti se la curva non scende quindi si è fermata, però si è fermata diciamo a 0,81 quindi sotto l'1. Rianimazioni con 70 ricoverati. Acquaroli dice subito provvedimenti quando la soglia di rischio diventa preoccupante. Dopo una rapidissima discesa siamo arrivati ad una fase di stallo, 4 intanto le vittime di ieri in area medica sono 290 dei genti positivi. Mentre non flette più la curva, anche il Carlino scrive, le microzone adesso sono rosse di rabbia conquistato il giallo, l'RT rimane basso ma non calano i positivi. Palmiero Ucchielli attacca di nuovo Acquaroli, Ucchielli sindaco di Vallefoglia, sindaco che Vallefoglia cioè che è in zona arancione rafforzata, insomma in zona rossa. Ci sono polemiche aperte, chi fa paragoni con quanto accaduto l'anno scorso non tiene conto che il virus è mutato, quindi c'è massima attenzione. Allora su questo fatto che il virus è diverso, noi anche qui in Rassegna Stampa abbiamo più volte detto che maggio solitamente, l'anno scorso ha cominciato a far respirare e a registrare un calo dei contagi anche molto vistoso e quant'altro. Come avete visto invece, soprattutto nelle Marche, la situazione invece in questo momento è ferma, è di stallo. Il virus è diverso, scrive questa mattina il Carlino, corre molto più velocemente rispetto all'anno scorso, le varianti lo hanno cambiato e così fare i raffronti con la fine della prima ondata, quindi l'anno scorso come a questi tempi, serve a poco. Soprattutto sono cambiate le condizioni di partenza, il vaccino ha messo in sicurezza molti degli anziani e dei più fragili. Tutto ciò porta a ridurre il peso sugli ospedali sulle terapie intensive. Ma ora il virus è endemico e corre con gli uomini che si muovono di più. Le fasce dannata che vanno dai 20 ai 60 anni dovranno affrontare la malattia direttamente, il che vorrà dire un numero minore di casi da ospedalizzare e un minore numero di vittime. Mentre Acqualagna, Acqualagna che è stata per un po' in zona arancione, poi è diventata gialla, ma Acqualagna siccome registra un boom di contagi ha deciso, il sindaco ha deciso di chiudere le scuole, ha firmato un'ordinanza valida fino all'11 di maggio per arginare il numero di positivi arrivati a quota 30 con 90 persone in quarantena. Il sindaco è Luca Lisi, che vedete nella fotografia, che ha prorogato con un'ordinanza fino all'11 maggio la sospensione dell'attività scolastica in presenza. In questi giorni nel nostro comune ha detto stiamo assistendo ad un deciso aumento di contagio e quindi le persone in quarantena sono in questo momento da Acqualagna 96, di cui 30 sono positive. Mentre Bonci, da Fossombrone, dice la situazione peggiora, possiamo finire in zona rossa. Come dicevamo ieri, attraverso il Corriere Fossombrone, sono state segnalate anche minacce ai medici. I numeri stanno aumentando e se continua così non vorrei che la regione ci riqualificasse come zona rossa o arancione rafforzato. Così il sindaco di Fossombrone, Gabriele Bonci, che parla sulla scorta dei dati giornalieri su persone in quarantena e positivi. Dice Bonci abbiamo 104 cittadini in quarantena, erano 89 due giorni fa, e 44 positivi. Quest'ultimo dato in realtà non è del tutto tranquillizzante perché c'è ancora la possibilità che tra i 104 quarantenati alcuni siano risultati positivi al tampone. insomma al tampone, quindi potrebbero aumentare. Intanto dalla pagina nazionale del resto del Carlino, se vogliamo tirarci su un po' di morale, tenendo conto che domani è festa, insomma cercando di tornare un po' almeno con la mente a essere un po' più leggeri, meno vittime, questo è il titolo, ricoverati in calo, il Covid adesso fa meno paura. Report della Fondazione Gimbe sull'ultima settimana, nel mondo contagiata una persona su 50. Dunque il Covid allenta la presa sull'Italia, nell'ultima settimana calono i morti, tornano a respirare gli ospedali e diminuiscono anche i nuovi positivi. A evidenziarlo è l'ultimo rapporto della Fondazione Gimbe e questo diciamo ci fa ben sperare. Andiamo invece adesso a Ristò di Pesaro, il centro lab vaccinale, Rossini Center, forse si riconosce meglio, tra i caregiver, spuntano i giovani, le dosi toccano anche i minorenni. Con la ripresa delle somministrazioni a Ristò ecco i primi ragazzi e ragazzini alle prese con la campagna di immunizzazione, il racconto di un 24 anni che dice vivo con mia nonna, ho fatto il Pfizer ma avrei accettato anche gli altri vaccini perché questa è comunque una opportunità. Mentre da Ancona vi segnalo questa notizia che riguarda un infermiere, un infermiere che lavora in un ospedale, che convintamente dice io mi rifiuto di fare il vaccino e quindi dice lui licenziatemi. Enzo Palladino, si chiama così e lo vedete nella fotografia, lavora a Torrette, non voglio, dice lui, che il mio corpo diventi oggetto di sperimentazione, così mi sento solo ricattato. Scrive una lettera anche al Presidente della Repubblica, al Ministro della Salute, spiegando perché non vuole fare il vaccino e si ritrova tempestato di messaggi di solidarietà. Qualcuno è pronto anche a mandarmi dei soldi se perderò il lavoro per questo. Lui è Enzo Palladino, 52 anni, infermiere del reparto di endoscopia digestiva all'ospedale di Torrette e con una lettera di quattro pagine, inviata mercoledì mattina anche alla direzione della struttura dove lavora, ha detto chiaramente di essere pronto non solo a perdere il lavoro ma anche lo stipendio perché non voglio. Dice, scrive lui, che il mio corpo diventi oggetto di sperimentazione, nutro forti dubbi sulla fretta con cui il farmaco è stato sperimentato. La replica invece dell'azienda sanitaria che dice, ha detto no anche ad un tampone e quindi per lui è pronto un demansionamento. L'autorità giudiziaria lo ha già condannato, verrà posto dove non può mettere a rischio le altre persone. La pagina di Fano del Corriere Adriatico, un polmone verde contro lo smog, vivaio urbano allestito all'ex Agip, sarà una soluzione transitoria in attesa di individuare quella definitiva. Questa è la proposta per lo spazio vicino alla scuola Corridoni, proposte quattro idee dall'Ateneo di Ferrara. Intanto domani a Fano si svolge il mercato, ma crescono i malumori tra i ristoratori, le bancarelle tolgono spazio ai tavoli all'aperto, ma l'assessore Lucarelli dice che gli ambulanti sono già stati penalizzati. Anche Carlino Fano apre con l'idea verde per l'ex Agip, diventerà vivaio urbano, ma sarà una soluzione temporanea, far crescere il verde porta benefici, scrive il giornale. Poi il recupero con Gela Latale, Accordo Comune Sindacati, c'è l'intesa sulle politiche sociali e fiscali, nuovo bando per gli aiuti. Poi il Vescovo domani al prelato di Fano per San Giuseppe Lavolatore, celebrazioni della Messa alle 10.30, poi il documento su ambiente e futuro. Sul biodigestore invece a Barchi il comitato si mobilita, abbiamo preso contatti con avvocati, oncologi e altri, porteremo avanti la battaglia, basta con i servizi per la costa e l'immondizia per l'entroterra. Mentre la Rocca a Pesaro ora sarà vietata nel fossato, l'uso del fossato sarà vietato, il palio dei Braceri e il cinema all'aperto dunque non si faranno, impossibile usare anche il cortile interno centrale, mancano le uscite di sicurezza. Ci hanno comunicato che dal 15 giugno partiranno alcuni lavori idraulici. Mentre Parcheggi, sempre a Pesaro, torna da domani la zona E stagionale in zona mare, da domani al 24 settembre torna la zona stagionale che prevede le modifiche al piano di sosta nella zona mare di Pesaro, i permessi possono essere richiesti negli uffici di Pesaro Parcheggi aperti dal lunedì al sabato, dalle 7.30 alle 12 e dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17. Andiamo ad Urbino invece, la pagina del Carlino pubblica questa notizia che sicuramente farà piacere, anzi sarà un'ottima opportunità. Perché? Perché Palazzo Ducale ha stretto un accordo con Google, il grande motore di ricerca mondiale, e Palazzo Ducale regala a Google le sue opere. Ovviamente regala, tra virgolette, perché? Perché c'è questo accordo tra la Galleria Nazionale e il motore di ricerca per far vedere i suoi straordinari dipinti. Quindi tutte le opere che sono all'interno del Palazzo Ducale saranno presto accessibili da tutto il mondo in qualsiasi momento con un click. La Galleria Nazionale delle Marche infatti ha stretto questo accordo che digitalizzerà e caricherà sulla propria piattaforma Arts & Culture gran parte dei capolavori contenuti nel Museo Urbinate, i quali saranno visibili gratuitamente da chiunque. Ora, tramite queste immagini, come scrive giustamente Nicola Petricca questa mattina, saranno tutte queste immagini caricate sul portale, daranno la possibilità di vedere o ammirare questi capolavori anche nei particolari che a volte sono impossibili da cogliere quando si è anche magari di fronte, dal vivo, per esempio la pennellata di un pittore, perché magari nel museo tra il visitatore e il quadro c'è un vetro di sicurezza, quindi c'è qualche riflesso, eccetera, oppure si deve mantenere una certa distanza. Quindi si potrà vedere anche nei particolari tutti questi capolavori che sono all'interno del museo. Bene, dalla Val Metauro invece a Fossombrone avvia la stagione dei lavori pubblici, il sindaco annuncia che gli investimenti, stanziati 2 milioni e mezzo più altre risorse dal consultivo, il recupero dell'evasione per le spese correnti. Poi ciclovia fino a Fossombrone, Bonci, basta la parola di Baldelli, respinta la mozione che chiedeva impegni formali e scritti. A Senigallia invece addio Furcinon, re delle salsicce e i prodotti della macelleria di Fausto Federiconi, erano uno dei suoi souvenir preferiti dai turisti. Aveva 84 anni. Ieri in tanti hanno voluto salutarlo nella sala del commiato Giaccoli in via Cellini, dove è stata allestita la camera ardente. Droga in tasca, sempre a Senigallia, denunciato per spaccio. Poi sotto, anche il ricordo, tornando sempre alla notizia d'apertura, il ricordo del figlio Franco, presidente della Vigoro, il suo sidecar rosso, qui è una istituzione. Andiamo a vedere la pagina invece di Macerata, per dirvi che i soldi non fanno la felicità, i soldi non sono tutto, c'è anche di più. E allora c'è una bella storia sulla pagina di Macerata e Provincia, che arriva dal resto del Carlino, la storia di Gian Paolo Meico, la moglie Enrica, nel giorno del loro matrimonio, qui in questa fotografia. Il titolo, Mi manca mia moglie, per lei lascio la Turchia e rinuncio a tanti soldi. Parliamo dell'alletatore di pallavolo, Maceratese Medei, in un anno, dice lui, ci siamo visti solo quattro giorni, lui stava allenando una squadra turca, con la quale, insomma, ha vinto, ha fatto tante belle cose, appena ha vinto il campionato, hanno fatto di tutto, racconta lui, per trattenermi, offrendomi un contratto faraonico, dice Medei, Medei, attualmente in quarantena a casa dopo essere rientrato dalla Turchia, ma ha prevalso la scelta personale di tornare da mia moglie, che mi aspetta da dieci mesi. E con questa bella storia ci fermiamo qui. Grazie per averci seguito. Vi auguro una buona giornata, vi do appuntamento a questa sera, alle 20.30 con il telegiornale, a occhio alla notizia, vi ricordo che domani è il primo maggio, quindi, come consuetudine, anche noi ci fermeremo, anche se non è una festa di precetto, ma è l'unica occasione in cui ci fermiamo, il primo di maggio, il due poi è domenica, quindi ci ritroveremo tra tre giorni, lunedì mattina, puntuali alle 7.00. Buona giornata.